buongiorno allora nuovo blog sì mi vedete nella postazione ma perché devo farvi vedere delle cose e come leggete dal titolo ho fatto shopping per la nuova casa allora ci sono due tre cose che mi hanno regalato diciamo quelli che conosco invece tutte le altre cose in poche parole sono quelle che ho comprato per cui volevo mostrarvi queste cose qui cos'è meno le posso mettere via e poi dirvi qualche novità in arrivo piano piano allora forse questo video voi lo vedete sabato pomeriggio verso le due forse dico forse perché non so se riuscirò a montare il video per il semplice fatto che in settimana lavorando sta diventando un po complicato montare e registrare i video per cui dato che oggi ero a casa ho pensato di fare questo blog un blog che farò durare poco perché non è che vi faccio vedere chissà cosa ma darò solo qualche novità qualche notizia che piano piano si evolveranno nel canale e anche avvisare di quello che succederà dato che c'è gente che mi segue veramente e ci tiene tanto ai video che faccio allora preferisco avvisare le persone che ci tengono tanto che guardano i miei video ogni giorno e che non perdono niente in poche parole di quello che pubblico prima di tutto vi faccio vedere il sacchettone che avete visto nell'anteprima e poi vi dirò le novità le novità che vi arriveranno è un blog un po misto perché uno se lo faccio durare tanto ci metterò troppo da montare e non ho il tempo di farlo invece facendolo durare pochissimo diciamo che potrei riuscirci per cui se non lo vedete sabato lo vedete in settimana questo blog allora vi mostro il sacchetto enorme che vi faccio vedere nel nell'anteprima infatti non ci stava neanche sull'anteprima e vi faccio vedere che cosa ho comprato e che cosa mi hanno regalato per la nuova casa iniziamo da questi bicchieri allora questi l'ho presi al lidl dato che mi piacevano e ho pensato quasi quasi quando bevo la coca cola è più bello avere dei bicchieri con scritto coca cola normali semplicissimi e poi mettendo il ghiaccio come come qua secondo me sono ancora più fighi più belli da vedere questi costavano 2 euro poi facciamo 3 euro 3 euro 3 bicchieri io ho speso 6 euro e ne ho presi 6 e allora aspetta prima che faccio la frittata vi faccio vedere da vicino questi qua semplicissimi con la scritta coca cola mi piacevano e non ho resistito alla fine ho preso questi bicchieri qua per cui queste sono state le prime cose che ho preso per la nuova casa i bicchieri ovviamente non devono mai mancare poi mia mamma ha comprato questo contenitore per la pasta del del non mi viene il nome ma masterchef quelli che fanno masterchef praticamente adesso è pieno di polvere c'è il coso perché avendoli lasciati fuori con il sacchetto aperto si riempiono di polvere comunque dentro questo bello grande qui ci metti la pasta ed è comodo perché ce l'ho anche mia mamma la chiusura è semplicissima e poi ti spiega anche come chiuderla e secondo me è bella e allora ho ho mi ha preso sia questo che questo qua piccolo questo invece per tipo biscotti qualcosa del genere è alla stesso contenitore il problema è che è più basso per cui non so cosa metterò dentro però è comodissimo e secondo me sono utili per cui adesso vedrò perché se sono utili ne comprerò un bel po e li metterò dentro al mobile poi al lidl ho preso no scusata al bennett questo sole però mi sta un po dando fastidio e non c'è un posto in cui riesco a registrare questo l'ho presi al al bennett allora io l'ho fatti e le avevo fatti ma dato che ho pensato rifaccio la recensione della chobar della cameo già pronti devi solo mettere se non sbaglio due ingredienti si solo le uova devi aggiungere li voglio fare una ricerca una in un video e vi faccio vedere come si preparano e se ho utile oppure sono meglio quelli fatti da voi oppure comprare la scatolina diciamo per cui io l'avevo già presi e ne avevo già provato e il video è piaciuto molto quando io ho registrato questo adesso è passato tanto però diciamo che dato che a me piace questo dolce alla fine no ho voluto prenderli di nuovo e provare di nuovo fare lo stesso video però con diciamo spiegato bene come si deve poi una mia amica mi ha regalato questo scusate mamma mia allora questo che voi dite che cos'è sono soldi no è praticamente questo è da tanto come l'ha regalato ma non ve l'ho ancora fatto vedere è uno strofinaccio per la cucina però con i dollari con scritto se non mi sbaglio soldi moni moni a si 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 tiene così praticamente con la scritta grazie sole così ed è troppo carino e dato che sto cercando di parte che vabbè andrà lavato eccetera però questo è quello che mi ha regalato una mia amica che conosco e non mi ricordo se quale giorno è stato un giorno di natale o così no ma mi sembra che me l'ha regalato così perché l'ha visto mi fa guarda ho pensato a te dato che mi piaceva ho voluto prendertelo e io gli faccio si si è fatto bene anche perché queste cose particolari mi piacciono poi sono belli e quando le usi per la cucina ancora di più poi invece mia amma mi ha preso questo tappeto per il bagno è un tappeto che si assorbe cioè praticamente voi quando mettete sui piedi assorbe l'acqua ed è morbido infatti c'è scritto happy vuol dire felice adesso qua non si vede bene perché c'è il sole l'ha pagato 5 euro comunque fatto così si assorbe l'acqua sapete tutto io ce l'ho c'è me l'ha preso enorme un po esagerato perché di solito uso quelli più più piccolini io ho ne ho presi due però tanto tempo fa che sono praticamente questi qua dove usate che è così non si vede dove praticamente l'ho presi due tappeti al bennett e e ce l'ho nel bagno vabbè adesso si sono rovinati perché dopo un bel po che le hai usati si rovinano però sono ottime perché assorbono bene l'acqua e e allora dato che l'ha visto fa glielo prendo per lei e me l'ha preso per me per cui questo è quello che mi ha dato lei poi sempre mi ama non è proprio uno shopping questo perché alla fine ha preso quasi tutto mi ama mi ha comprato questi che sono degli stampini dato che io faccio i dolci e tantomeno sono una che cucina mi piace cucinare piace fare i dolci alla fine mi ha comprato questi qua dove tu fai dolci cioccolati caramelle questo in silicone lo apro anzi non l'ho neanche visto che carino e c'ha le conchiglie le stelline c'ha il polipo e e poi fare anche i cioccolatini con questa acqua in silicone anzi mi sembra che forse c'è a non c'è no ti dice solo come che cosa puoi fare in poche parole e secondo me è molto carino per cui vabbè adesso è tutto sporco però quello è quello che ha visto gli è piaciuto credo due euro l'ha pagato neanche tanto o anche meno di due euro non lo so però è molto carino allora dato che la batteria scarica non so quanto mi dura sia la batteria che la clip per cui io direi di andare più veloce mi ama ha preso questo qua sempre per me però diciamo che dopo aver comprato due scatole del mulino bianco in poche parole ti regalavano questo che è la biscottiera e col mulino bianco adesso ve la faccio vedere mi piaceva la volevo e poi fa vabbè dai ti compro compro i biscotti li mangiamo e poi quello lo metti da parte infatti poi lo messi da parte senza farla frittata magari ed è fatta così col coperchio giallo così carina ci metto dentro biscotti tanto siamo in due per cui io direi di che va bene anzi mi sembra che c'è anche una scritta le cose buone ci rendono felici e magari comunque questa con la scritta molto bella scusate per il sole ma non ho altro posto in cui andare perché giù c'è mio fratello con la musica alto volume io ho chiuso la porta lui sta facendo casino e per far sì che non mi segnala per copyright questo è quello che devo fare poi andiamo più veloce io invece ho comprato queste crepe mix alla lidl da provare si da un bel po che l'ho preso però io ve lo faccio vedere lo stesso 185 grammi sono 7 pezzi devi solo aggiungere il latte lo proveremo in una ricetta cioè lo proveremo in un video insieme perché voglio dirvi se buono eccetera come ho fatto con i pancake e niente per cui dato che queste sono crespelle ho detto ma sì che poi sono francesi mi sembra sì dalla francia e mi sembra anche questi no questi un euro forse un 99 centesimo qualcosa del genere e niente ho preso questi per farvi la ricetta insieme poi per finire vi dico che ho preso altri tre prodotti della garnier però sto sole mista della gare cioè io mi sposto e il sole arriva mamma allora della garnier ho voluto prendere questo per provarlo questo qui è uno shampoo solido al cocco e aloe vera video allora un sapore mamma mia irresistibile stare ore ore annusarlo questo qui praticamente lo puoi usare per due volte come shampoo non l'ho mai provato costa sui cinque euro un po tantino però se ne vale la pena questi per capelli normali e grassi e niente ho preso questo per provarlo e questo qua perché anche questo mi fa innamorare delicato per capelli normali d'avena si delicato avena questo qua cioè non potete capire l'odore è stra buono io ho preso questi due perché mi hanno attirato l'odore ed è una è una bomba per cui ho questi due e in più ho voluto provare la novità di garnier che è ultra dolce ultra dolce bagno si bagno ciao balsamo senza risciacquo nutriente all'olio di avocado e burro di karité questo anti crespo per per capelli molto secchi al crespo questo qua in poche parole c'è scritto dopo lo shampoo applica una piccola quantità sui capelli bagnati e poi risciacquare questo è quello che ovviamente però questo dura anche questo due flaconi è nuovo l'ho voluto prendere anche questo l'ho preso in promozione ma questo qua costa un bel po per cui diciamo che ho detto lo provo cioè li provo tutte e tre e poi vi farò sapere negli prodotti finiti queste sono state le cose che la maggior parte me la comprate mi ama e qualcosina che vi ho fatto vedere l'ho presi io cioè questo video doveva durare poco ma invece quando io parlo ciao e in più io mi sposto mi sposto sempre in più di qua e il sole viene di qua cioè e io non vedo niente non vedo che cosa sto registrando ho provato a spostare la telecamera così ma comunque non riesco lo stesso cioè mi sposto e vediamo se però non ci vedo lo stesso vabbè l'importante che sta registrando allora vi spiego cosa è successo voi nell'altro blog io vi ho detto che ho trovato un nuovo lavoro che c'è in senso che per farvi capire io lavoravo a dicembre e novembre ho fatto dicembre novembre dicembre lavoravo fino a tardi fino a mezzanotte e poi io dopo vi avevo anche già spiegato che mi sono licenziata ho lasciato il lavoro perché come diciamo orari erano troppo esagerati e poi non uscivo a dormire dato che facevo due lavori e allora ho deciso di licenziarmi ho trovato un altro lavoro che era quello praticamente vicino a me in poche parole a cernobbio dove mi svegliavo alle 6 del mattino cioè mi svegliavo alle 5 del mattino comunque ogni tanto metto le storie su instagram per cui lo sapete lì e mi svegliavo alle 5 del mattino e dovevo iniziare alle 6 gli orari erano abbastanza buoni perché avevo il tempo di montare registrare video solo che vabbè ci sono stati problemi eccetera allora alla fine ho cercato un altro lavoro di culo mi è andata di culo che ho trovato un altro lavoro che è questo in poche parole per cui voi non sapete che io mi sono di nuovo licenziata dopo neanche un mese di quasi due mesi di che ero lì e mi sono licenziata in nuovo adesso ho trovato questo lavoro questo lavoro mi permette di fare tante ore mi permettere di lavorare di più e di non avere problemi su orario eccetera il problema è il fatto che io sono a casa la domenica cioè la domenica il giorno di riposo e invece il sabato ogni tot vado a lavorare alla mattina per cui faccio dalle 7 fino a mezzogiorno ma non tutti i sabati per cui calcolate che sono due sabati che vado a lavorare gli altri due no per adesso che sono in questa casa è difficile registrare difficile va è montare ancora ma registrare è difficile perché se tu registri un video c'è quello che ti disturba quello con la musica quello che urla quello che fa di tutto di più qua siamo in sei e i movimenti ci sono sempre no per cui io voglio dei video giusti non così alla cavolo per cui per me è difficile registrare perché gli orari non li so in senso che non ho orari fissi di questo nuovo lavoro questo nuovo lavoro si trova dopo 30 minuti distante da dove sono io adesso poi sarà un po più vicino nella casa nuova saranno sui 20 minuti anche di meno e e allora dato che lavoro dalle qua no lavoro dalle 6 del mattino in poi potrebbe essere che lavoro cinque ore potrebbe essere che lavoro 10 12 ore una volta fatto torre una volta c'è dipende da dagli orari dipende da da quello che c'è di lavoro no per cui avendo cambiato lavoro è un po complicato registrare e registrare non fare registrare i video per il fatto che il tempo è pochissimo per cui volevo avvisarvi di questa cosa in senso che se riesco pubblico un video se riesco nel pubblico 2 se riesco nel pubblico 3 se non riesco nel pubblico uno settimana però credo che almeno un video ma almeno uno riesco a farlo ovviamente non riesco a farli durare tanto se sono di corsa se devo andare a lavorare difficile diciamo fare 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 un video che dura tanto per cui se avviso quelle che mi seguono di più quelli che guardano di più i miei video quelli che tengono ai miei video avviso queste persone che mi guardano sempre che se per caso non vedete neanche un video sul canale non vi preoccupate ma perché non riesco a registrarlo io faccio tutto il possibile come sempre fatto perché a me piace youtube mi diverte fare video mi diverte parlare con voi stare a contatto con voi e per cui non mi piace lasciare youtube e non dico per non dico questo nel senso che lascio youtube no però mi piace il canale attivo per cui almeno un video a settimana lo voglio mettere dipende tutto dal lavoro per cui ho già avviso che può essere che ci sarà un video a settimana può essere che non ci saranno video per una settimana anche due non lo so dipende tutto da quello che c'è adesso siamo a marzo il mese di marzo ormai è arrivato e la bella notizia è che adesso inizieranno a darci le chiavi della nuova casa per cui quando arriverà quel momento tra una settimana due settimane non lo so entro entro ovviamente la fine di marzo vi comunicherò anche quello vi comunicherò poi video come saranno perché sapendo che lavorando fare il trasloco costruire costruire mettere a posto tutta la casa fare i lavori per la nuova casa diciamo che lascia tanto tempo per cui sarà ancora un po più difficile fare tutto compreso con la nuova casa comunque vi aggiornerò via vi avviso e vediamo come come potrò mettere la situazione come si deve perché all'inizio la mia idea era fare solo vlog aggiornarvi piano piano fare solo vlog quando mi daranno le chiavi della nuova casa e adesso tutti i video che vedete saranno tutti i video che sto facendo subito quelli un po più vecchietti così almeno voi sapete che dopo ci saranno i vlog che credo che sarà un blog che però durerà un bel po non lo so ancora tutto da vedere per cui queste sono le cose che volevo avvisarvi su questo e niente dato che molte persone mi seguono anche su instagram e molte persone mi scrivono per cui grazie alle persone che mi scrivono anche tutti i giorni grazie per l'amicizia che ovviamente piano piano abbiamo perché mi piace sentirvi anche in privato mi piace ascoltarvi e so che non sono da sola so che se faccio i video vuol dire che mi ascoltate ci tenete tanto anche solo per conoscermi per cui cioè sono diciamo felice di questa cosa perché sto facendo anche molte amicizie molto belle per il fatto dei vostri canali perché ci sono anche persone che ci sono anche persone che hanno un canale e mi seguono voglio dirvi anche che io guardo sempre i vostri video cerco di guardarli tutti ovviamente lavorando dalle 6 del mattino fino alle 8 di sera calcolate che pesante per cui c'è quel giorno che io riesco a guardare i video ci sono quei giorni che proprio youtube per me non c'è lo uso solo di più se devo pubblicare i video oppure leggere i commenti che voi mi lasciate sotto i miei video però state tranquilli che non perdo neanche un vostro video e cercherò di guardarli tutti ovviamente lasciandovi un commentino per le persone che sono più presenti sul mio canale se vedo che molte persone non sono presenti sul mio canale che non ci sono quasi mai vengono solo quando vogliono loro un conto se lavori dici ok ci può stare per l'amor di dio ma un conto se sei a casa non hai il lavoro non hai niente da fare e ti perdi praticamente quasi tutti i video per cui diciamo che io vedo le persone se guardano i miei video quanti video guardano perché alla fine non sono tanti i miei video cioè sono tra video a settimana ma la pena adesso inizio a pubblicarli anche due massimo massimo due video a settimana sto pubblicando perché poi al sabato sto iniziando a avere un po' di difficoltà per cui io sono sempre presente e cercherò di guardare anche i vostri video i vostri canali per cui non vi preoccupate se per caso ovviamente non passo per un bel po' scusate ma cercherò il possibile di lasciarvi un commentino e guardare i vostri video perché ci tengo veramente poi ovviamente se ci sono dei video che non mi piacciono nel senso da guardare è inutile che apro il video è inutile che li guardo per cui cioè io ve lo dico chiaro e tondo sto sole madonna e niente andrò a litigare con questo sole qua che bello e sì baciate dal sole proprio non vedo niente quanti minuti siamo bene chissà questo video quanto dura grazie a questo sole qua vabbè e niente questo è quello che volevo dire mi sto già impiepilando impappinando e niente volevo dirvi anche che ho fatto anche una decisione cambierò il nome del canale questa è una bomba una notizia bomba cambierò il nome del canale ancora non so quale nome scegliere ho scelto due nomi e sono ancora indecisa tra uno di questi due nomi per cui non so se dirvi questi due nomi e poi me lo fate sapere voi quale nome potrei scegliere oppure decidere io il nome del nuovo canale e cambieranno tante cose cambierà la sigla ci sarà la sigla nuova del canale quella lì che vedete ogni tanto ogni tanto la metto ma è quella per il momento metto non metto perché poi sto valutando per la sigla nuova e per tante cose sul canale che arriveranno piano piano tutto nuovo per cui ho questa decisione di fare tutto tutto nuovo e cambiare proprio tutto sul canale ovviamente ma anche sui video e niente questo video sarà durato l'eternità ci scommetto però tanto adesso vedrò quando metterlo perché potrò metterlo sabato potrò metterlo martedì non lo so sto cercando di registrare i video i giorni in cui sono a casa i giorni in cui non lavoro tipo come oggi però dato che sto avendo problemi con questo telefono diciamo che sto cercando di non registrare più come prima perché questa clip questo telefono scusate se ho interrotto la registrazione ma avevo paura che mi si cancellava la clip si bloccava e alla fine tutto quello che ho detto ho parlato per niente invece ho detto meglio stoppare e ricominciare la clip per cui ogni volta devo sempre fare così cioè per quelli che mi seguono da poco la mia cameretta si trova in massarda la massarda ha due finestre sopra il tetto quelle che si aprono in su per cui il sole la pioggia la neve tutto il resto lo si vede da su no? e a me da fastidio quando devo registrare i video che ogni volta devo trovare una posizione giusta perché poi il letto non è stato fatto e dato che alla mattina sono andata a lavorare mi sono svegliata alle 4 del mattino per andare a lavorare non è che adesso mi metto a fare il letto per cui cioè per farvi capire questo è il risultato adesso valuto l'altro telefono se funziona se mai userò quello e dato che il cellulare mi sta abbandonando perché la batteria è scarica noi ci vediamo per cui detto questo io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video sta clip io le odio fare così le clip perché non hai appunto una postazione giusta da va bene detto questo noi ci vediamo al prossimo video grazie per chi è arrivato fino a qua per chi è arrivato fino a qua perché di sicuro il video dura tutto tanto lasciatemi un emoji di un cuoricino rosso per me per cui se siete arrivati fino a qua lasciatemi un cuore rosso di emoji sotto nei commenti così almeno so che avete visto tutto il video e fatemi sapere di cosa ne pensate di quello che ho detto e le novità del nuovo canale che usciranno io mi avvicino sempre di più al telefono dato che non vedo niente vabbè ok avete capito che non vedo niente ok noi ci vediamo al prossimo video mi sto cioè vabbè meglio che chiudo ciao e al prossimo video ciao